Io voglio schiacciatori che schiacciano bene palloni alzati male. Voglio questi, perché questi poi, quelli alzati bene, li schiacciano benissimo, non bene. Quindi non ne parliamo, risolviamo. Se la realtà è come è, e non come io voglio che sia, la pala è bassa, mio cervello, che è un computer straordinario, deve aprire tutti i file con il titolo pala alzata bassa. E in questi file ci sono le soluzioni per le pali alzate basse, che sicuramente non è che schiacciarla come se fosse alta. Questo è poco, però sicuro. Ci sono altre soluzioni, deve usare una di quelle. Se invece con la pala è bassa lui non apre nessun file, oppure apre il file alzata, certo che la soluzione non la trova, perché sta spendendo tempo invece di aprire il file a dire, questa pala è un po' bassa secondo me.